Io credo che non è facile giocare contro una squadra che già c'era successo con la Palmese, c'era successo con la San Cataltese. Io credo che i ragazzi hanno lavorato tantissimo, credo che il primo tempo abbiamo sbagliato soprattutto l'ultimo passaggio, però l'interpretazione, il ritmo io credo che sia sempre la solita squadra. Sono partite che nascono in una certa maniera e anzi io sono contento perché i ragazzi fino al 95 hanno provato di vincere, abbiamo avuto le occasioni per vincerla, però non ci siamo riusciti, però questi ragazzi anche oggi nessuno gli può dire che non si sono impegnati, hanno corso 95 minuti, c'era qualcuno magari che ha reso di meno, però adesso ci prepariamo per l'ultima partita dell'anno che andiamo a Torre del Greco e domani ricominciamo a lavorare per preparare questa partita. Mister, col senno di posti potevano fare dei campi diversi, tipo provare l'ingresso di Alma negli ultimi minuti della gara? Ma già le sostituzioni le hanno fatte, o Bonaffini o lui, anche perché abbiamo fatto entrare Costantino aveva dei problemi, allora abbiamo messo Budala a destra e il segreto a sinistra, sono tre i campi, io credo che sono chi è entrato veramente ha dato una scossa alla squadra, hanno fatto tutti la loro partita, però quando l'allenatore cambia abbiamo cambiato anche un sistema, siamo passati a un 4-2-3-1 e i ragazzi hanno veramente fatto un secondo tempo, credo che abbiamo giocato sempre a una porta. Peccato perché ci sono state tante situazioni importanti, però non siamo stati lucidi a concretizzarli. C'è stata una bella partita tra due squadre che hanno cercato di offrire un calcio propositivo, chiaramente ognuno con le sue armi, noi avevamo studiato le giocate del Gela, sapevamo che venivamo ad affrontare una squadra molto forte che provava giocate in verticale e rapidità, abbiamo provato a chiudere le loro linee di passaggio abituali per poi provare a ripartire in contropiede allargando gli spazi. Nel primo tempo ci siamo riusciti molto bene, purtroppo poi nel secondo tempo la pressione del Gela, un po' di preoccupazione nel mantenere il risultato, ci siamo abbassati troppo, abbiamo concesso troppi cross dagli esterni al Gela. Il rammarico più grande è che il gol è arrivato al 44esimo da una palla buttata dietro ai 50 metri, però faccio i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione che hanno offerto sicuramente, per come hanno interpretato la gara e complimenti al Gela che non scopriamo noi una squadra che gioca bene, organizzata bene, allenata bene, a cui noi auguriamo le migliori fortune.